Nome e cognome per quale pizzeria lavori? Mi chiamo Ardi Andreda, il cognome e il nome sono un po' difficili perché provengo dall'Albania però vivo in Italia da 25 anni. Per quale pizzeria lavori? Si chiama Le Busate, si trova a Nago Torbole, provincia di Trento. Che pizza hai presentato? Ho presentato una pizza che esalta proprio il prodotto del posto, c'è pizza in tutti i ingredienti che rappresentavano l'Alto Adige in parte il Val di Fassa. L'ingrediente è vincente? Vincente io penso senza dubbio potrebbe essere il puzzone di moenna, è un formaggio tipico che viene prodotto nelle malghe che si trova nella regione di Moenna, cioè nella regione di Alto Adige, scusatemi, nella regione di Alto Adige, che si trova tra Moenna e Val di Fassa. L'abbinamento di questa pizza? L'abbinamento l'ho fatto oltre al formaggio, ripeto, il puzzone di moenna, l'ho abbinato con lo spec sempre del Sudirol, una DOP, a loro volta abbinati con ingredienti del Sud Basso Italia. L'abbinamento birra o vino? Vino, vino. Il vino proprio riguardava un vino della cantina Ancavit dell'Alto Adige. Grazie.